Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale Io sono Veronica, se non ci conosciamo, se non ci conosciamo, ci conosciamo con una svuota la spesa di Basco e d'oro Ho anche gli scolprini alla mano Iniziamo da le due di Basco Allora, la prima cosa è una cassa d'acqua naturale primia, che vi ho fatto vedere in tutti i video, ha 1,32€ Poi, la carta igienica La telerica di spesa leggera Sono 10 rotoli Pagata 1,59€ Poi, i cornetti mais marcati prima le patatine A 1,09€ Ma le ha già mangiati Poi Parmigiano, era in promozione, un pezzo di parmigiano reggiano a 5,60€ 2 buberoni di pollo a 1,69€ a 2 confezioni La pancetta dolce a cubetti La pancetta dolce a cubetti Sempre marcata premia A 2,99€ Mortadella Mortadella Da 100 grammi Pagata 1,99€ Quella senza glutine, senza lattosio Così anche il salame Milano Nella vaschetta A 2,99€ Sempre marcato premia E il vassoio di banane A 1,99€ Questa era la prima volta La seconda volta al vasco Sempre un'acqua naturale A 1,32€ Il vicinet disincostante gel Quello disinfettante A 2,79€ Poi Lo sgrassatore universale Chantecler Che mi sto consigliando da mia suocera Infatti Lo compro E mi piace un sacco Da utilizzare Sia in cucina Ma anche per il bucatto È molto Molto efficace Pagato 2,69€ Con lo sconto Di 69 centesimi Cornetti di mais Se ne pede due confezioni A 1,09€ Mi piacciono I cornetti di mais Che sono Senza glutine Lo zimil Eccolo qua Lo zimil Quello senza lattorio Senza grassi Magro e digeribile Con il tappo verde A 1,69€ Ne ha presi 3 Da 1,69€ Il miele millefiori Che è buonissimo 5,59€ Coca-Cola Da un litro Ne ha presi 2 A 1,59€ Questa era La seconda volta Invece Dal loro Ha preso Sempre cornetti Di mais Perché gli piacciono Tanto Però Costa una di più Costa 1,29€ Si è preso Le ricottine Marcate Primia Una L'ha già utilizzata Pagate 1,19€ Salmona Invece Da fumicato Quello Nelle buste A 6,99€ E ha preso Anche qui L'acqua Naturale La primia A 2,76€ Costa Leggermente Di più Questa Era La spesa Settimanale Non avevamo Molto da Da prendere Una spesa Veloce Spero che il video Vi sia piaciuto Stato utile In qualche modo Lasciate Un like Un commentino Qui sotto Iscrivetevi Al canale Mi raccomando Vi mando Un grosso bacio E noi Ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao Ciao